Bruno, volevi il primo gol all'Arena, in campionato fortunatamente è arrivato quest'oggi, che emozione è stata per te? Un'emozione incredibile, l'avevo detto anche in un'intervista durante la settimana, che sarebbe stato bellissimo segnare sotto la curva e così è stato. La partita forse si è messa subito bene, è stata un pochino più facile di quello che vi aspettavate oppure le difficoltà del risultato ci sono comunque state? Avevamo scelto di andare a prenderli alti, poi sapevamo anche come uscivano loro e è andata bene. All'inizio siamo stati molto aggressivi, poi abbiamo trovato il gol con Rashid, poi loro hanno provato a risponderci ma abbiamo trovato il secondo gol. Il campionato continua a regalare sorprese, il Lecce che perde ancora in casa, il Ponte d'Era che va a vincere a Salerno, ma insomma il Pisa non si fa intimorire e va avanti a gran ritmo. No, noi pensiamo a noi e gli altri sinceramente non ce ne importa più di tanto, pensiamo a giocare ogni domenica con la cattiveria come abbiamo giocato oggi, fino alla fine del campionato.